La marea non arriva al minimo previsto, il mose non si alza, ma San Marco va a finire comunque sott'acqua. È il paradosso delle paratie anti alta marea nella laguna. Anche quando funzionano non proteggono la basilica. Il sistema non è scattato perché il livello di guardia non è stato raggiunto, ma l'acqua alta è comparsa lo stesso, allagando soprattutto in Nartecia il portico prima della basilica vera e propria, la parte più bassa e antica di piazza San Marco, dove sono in corso i lavori di protezione contro la salsedine. Un violento nobifraggio durato ore accompagnato da vento forte si è abbattuto anche su tutto il Veneto. In particolare è stata colpita Padova e la sua provincia. La città di Sant'Antonio è andata letteralmente sott'acqua. Allerta arancione per il maltempo in Calabria e nelle Marche, gialla in altre otto regioni, scuole chiuse nell'Alessandrino e ad Ancona e in altri comuni marchigiani. Il Piemonte chiede lo stato di emergenza per l'Alessandrino. La perturbazione sarà accompagnata da un deciso rinforzo del vento su gran parte del paese.